Una nota del Ministero dell'Interno, diramata a tutti i comuni italiani, ha disposto di intensificare le misure di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi sensibili con particolare attenzione verso le aree di maggiore afflusso di persone durante lo svolgimento di eventi e cerimonie riferibili alle prossime festività natalizie, valutando l'attuazione di misure di difesa passiva al fine di prevenire possibili criticità sia per l'incolumità delle persone sia per l'ordine pubblico. L'ordinanza arriva in considerazione dei recenti episodi delittuosi verificatosi in campo internazionale e che, con effetto immediato, ha visto la collocazione di New Jersey e altri sistemi aventi simili funzionalità nelle vie cittadine più frequentate. Nel caso di Pescara ad essere sottoposte ad ordinanza sono Corso Vittorio Emanuele II, Corso Umberto I, Viale Regina Margherita, Via Carducci. Per il 31 dicembre, in occasione del concerto in piazza della rinascita dei Negrita, le barriere saranno collocate a partire dalle ore 17 fino alla fine della manifestazione, anche in Via Regina Margherita in corrispondenza dell'incrocio con Via Mazzini, in Via Carducci in corrispondenza dell'incrocio con Via Parini e in Corso Umberto all'incrocio con Piazza Primo Maggio. L'ordinanza ha avuto effetto immediato da ieri e sarà conclusa il prossimo 8 gennaio, data di conclusione delle festività. Rispondendo a quelle che sono le esigenze di sicurezza e di tranquillità per i cittadini e gli utenti della città di Pescara in questo periodo particolare di frequentazione, abbiamo ritenuto di dover apporre dei sistemi di sicurezza rispetto a quelle che sono le misure richiamate dal Ministero degli Interni e della Prefettura. Certo, nell'area centrale abbiamo preferito il luogo dei freddi New Jersey, insomma un sistema con delle fioriere in cemento, che comunque hanno lo stesso effetto valore di interdire e di eliminare, limitare per quanto possibile l'ingresso di mezzi di grosse dimensioni. È una misura che sicuramente verrà attenuata per quanto possibile da questo sistema a cui si aggiungono comunque i controlli da parte della Polizia, dei vigili urbani e di tutte le forze dell'ordine. Auguriamo e auspichiamo che sia per noi soltanto un esercizio di attività, di movimentazione e che non debbano essere mai utilizzati per il fine per il quale sono predisposti.